Rescio che sulla sinistra passa Giordano, Giordano un buon pallone, lo scarica ancora Marzocchi, Nardò tiene palla stavolta con ordine, Marzocchi prova a dare a Pasca, ma un pallone difficile, Giordano se ne appropria, Giordano lotta, poi Pasca potrebbero crossare, poi la palla finisce, a Rescio che entra in area, e niente contrasto, Rescio finisce a terra per l'arbitro, è tutto regolare ma continua ancora l'azione del Nardò con Giordano che crossa di piedi e c'è un fuorigioco.